Ciao a tutti, benvenuti al mio canale, come state? Questa è la mia seconda e ultima parte, e meno male direi, riguardo i miei prodotti top e flop di puro bio per quanto riguarda il make-up. Vi ho lasciati con i miei prodotti top e flop appunto di puro bio di make-up per quanto riguarda il viso, a sto giro prodotti occhi e labbra. Come sempre sono prodotti che ho acquistato io con i miei soldini, non mi è stato inviato nulla gratis, per cui vi dico quello che penso. Parto anzitutto dagli ombretti che sono meravigliosi, molto scriventi, si sfumano in un nanosecondo e rimangono lì dove li mettete a prescindere se utilizzate un primer occhi oppure come base semplicemente un correttore. Io li ho divisi in ombretti shimmer e poi ombretti opachi, non ne ho tantissimi, già ve lo dico. E sul sito Eco Verde trovate o le refill che ho io, che tra l'altro costano meno rispetto alle full size, o proprio le full size, quindi con il coperchietto che si apre e si chiude. Non vi faccio gli swatches ma semplicemente perché ho fatto due make-up per le feste di Natale, che nel caso vi linko giù nell'info box, ma comunque è l'ultimo video che ho caricato sul mio canale, quindi se vi va andate a dare un'occhiata e poi ci metterei due ore e mezza a fare questo video, quindi anche no, magari vi faccio degli swatches a fine video. E direi partire subito con il primo, che è il numero 01. Questo è uno dei miei preferiti, è un bellissimo color champagne, che io utilizzo non solo come ombretto sulla palpebra mobile, ma anche all'angolo dell'occhio come punto luce, sotto il sopracciglio, e a sto giro anche come illuminante e mi piace molto. Poi un ombretto che è il numero 19, molto simile a Entropy, è un bellissimo grigio con un sottotono melanzana, shimmer, favoloso, e a volte mi capita di utilizzare solo lui sulla palpebra mobile, vado a sfumare nella piega e sono a posto così, chiaramente con eyeliner, un po' di mascara, ecch, ecch, ecch. Poi un altro ombrettino che io adoro è il numero 15, questo è un color prugna, sempre shimmer, con questi riflessi sul viola. Poi, altro ombrettino è il numero 05, che secondo me per il periodo estivo con la bronzatura risalta parecchio, ed è un bel color rame. Questo è l'ultimo ombretto che ho acquistato, e devo dire che mi piace parecchio, sicuramente lo utilizzerò con la bella stagione. Poi, gli ultimi tre ombretti facevano parte, in teoria, di una collezione primaverile, uscita un bel po' di tempo fa, però Puro Bio li ha voluti inserire nella linea permanente, e quindi beccatevi anche questi, perché tanto li trovate sul sito Ecco Verde Puro Bio. Allora, il primo è il numero 25, tra l'altro è un colore che ho riscoperto ultimamente, molto bello, è un rosa con dei riflessi argentati, poi, vado avanti, se no questo video non finisce più, un altro ombretto che è il classico oro, che fa tanto Natale, il numero 24, e ok, e poi, ultimo ombretto shimmer, che ho il numero 23, che invece è il classico argento per fare gli smokey eyes, con un nero, con un marrone scuro, insomma, è molto 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 carino. Mentre, di ombretti opachi ne ho tre, molto scriventi, eh, però sono abbastanza farinosi e fanno fallout, ma, come ho già detto in più video, non essendo una make-up artist, poco mi importa, io prendo l'ombretto, buccio con il pennello, lo sbatto, e poi vado a fare le mie sfumature. Questo è uno dei miei preferiti, è il numero 12, ed è un bellissimo color pesca, ottimo per fare la transizione, e a volte lo utilizzo su tutta palpebra, per fare un look molto leggero, molto naturale, con un filo di mascara, e sono a posto. Poi, il numero 13, che è il classico colore autunnale, è un borgogna, neanche troppo scuro, e, infine, un altro colore che ad ovo, è il numero 03, che invece è un colore cioccolato fondente, abbastanza scuro, ottimo da applicare verso la parte esterna dell'occhio, a modi eyeliner, e a volte non vi nego che questo, nonostante è molto pigmentato, però, ecco, non è proprio intenso, intenso, lo utilizzo con un pennellino di eyeliner, per ridefinire meglio le mie sopracciglia, come ho fatto in questo case. Ok, dato che sono ombretti a refill, io li ho voluti mettere all'interno di questa palette magnetica di Nabla, che ho acquistato tantissimo tempo fa, quando ero consumatrice compulsiva Nabla, un periodo fortunatamente durato pochissimo, un paio di mesi, dove ho acquistato il mondo, tantissimi ombretti sempre fatti così a refill, e qualche rossetto e tinte labbra, che poi molte cose le ho anche regalate, perché non mi piacevano tanto, però, quando si acquista in modo compulsivo, si finisce sempre o per buttare le cose, cosa che io non faccio, oppure in alternativa regalarle. Comunque, è una palettina fatta così a calamita, che si apre, oh mio Dio, e si chiude, e gli ombretti sono ben protetti. Poi, un prodotto che avevo acquistato anni fa, che ho utilizzato volentieri, ma che poi ho dovuto buttare dalla disperazione, è stato l'eyeliner on fleek, quello con il pennellino in feltro, a forma di cono. Mi era piaciuto all'inizio, perché aveva una buona scrivenza, non andava a sbavare, il problema è che perdeva un sacco di pezzettini, di pennello sugli occhi, e sinceramente, anche no. Per quanto riguarda le matite, ne ho due, una è la Cajal, matite occhi numero 03, ed è un bellissimo grigio antracide, e questa parola l'ho scoperta, grazie a Clio, Makeup Delight, a Giulia Cova, comunque da makeup artist, e non da persone così come me, che non sono makeup artist. Il colore è favoloso, è un bellissimo grigio, ma anche con dei riflessi sull'argento, è un colore che ultimamente, mi piace molto, le matite di Puro Bio, sono molto cremose, ve le consiglio a modi liner sopra o sotto, ma ben sfumate, oppure come base per gli ombretti, non ve le consiglio all'interno degli occhi, perché non durano niente, quella che mi ha deluso di più, sicuramente, è lei, la Long Lasting nera, ok, dovrebbe avere il numero, credo, sì, la numero 01, matita occhi, ed è un nero bello intenso, ma all'interno dell'occhio, non dura niente, e scrive anche ben poco, ecco qui, vedete che bello che è, ripeto, come base, a modi liner, è molto carino, ma all'interno dell'occhio no, ed è una cosa che mi ha dato molto fastidio, soprattutto perché qua c'è scritto Long Lasting, ma in realtà non è Long Lasting, questa matita l'avevo acquistata assieme, al mascara, della serie Prendi Due Paghi Uno, tra l'altro, in sconto, sugli 11 euro e qualcosa, con la matita nera, di cui vi ho parlato prima, e poi il Double Dream Mascara, Nickel Tested, che si presenta in questo modo, tonalità 01, mascara black, ha uno scovolino fatto così, mi sto sporcando un po' ovunque, ma fa niente, allora, inizialmente non lo capivo, nel senso che non mi faceva impazzire, mi dava fastidio, anche questo, come tutti i mascara, anche di altre marche, l'ho aperto, l'ho lasciato in posa così, per una notte, perché era abbastanza liquido, e poi l'ho utilizzato, e devo dire, che l'ho finito, con molto piacere, nel senso che, lascia le ciglia, ben separate, lascia un bellissimo effetto, volumizzante, quasi effetto ciglia finte, non spava, non va a seccare più di tanto le ciglia, non forma grumi qua sotto, e si strucca facilmente, con uno struccante bifasico, ha però una piccola pecca, e cioè, questi spuntoni, che voi vedete, quando io lo scovolino, lo passo dall'attaccatura delle ciglia, fino alle punte, mi dà fastidio, però poco male, perché è un prodotto, con cui mi trovo bene, e comunque ve lo consiglio, mentre, non vi consiglio, gli altri mascara di Puro Bio, perché per assurdo, anni fa li ho provati tutti, e tutti, non volumizzavano, non allungavano, non incurvavano, non lasciavano un bel nero intenso, non facevano veramente niente, questo è l'unico che mi piace, so che ne è uscito un altro, nuovo, magari lo proverò, forse sì, forse no, non ho idea, però ad ogni modo, al momento, questo è il mio preferito, in assoluto, per quanto riguarda le labbra, invece di Astra, consiglio tutte le matite labbra, di Puro Bio, perché sono cremose, facili da stendere, si sfumano in un nanosecondo, e sono molto scorrevoli, io ne ho acquistata, una sola, che poi è il colore, che mi piaceva di più, che ho utilizzato, e che sto utilizzando tuttora, è la numero 38, matita contorno labbra, che io utilizzo, sia per contornare le labbra, ma anche a mo' di rossetto, e ha una buona tenuta, il colore è questo qui, ed è un bellissimo, fragola, con una punta di rosso, altro prodotto, che vi voglio consigliare, questo rossetto duo, da una parte, è il rossetto scuro, da utilizzare in teoria, alla sera, e dall'altra, il rossetto chiaro, da utilizzare in teoria, alla mattina, ma ognuna, con i propri prodotti, li utilizza, quando vuole, di questa tipologia, c'è solo questo prodotto, di queste due tonalità, non ci sono altri colori, scusate, ma la voce oggi va giù, ed è il numero 02, ho già fatto i miei swatches, questo è il rossetto più scuro, e questo è il rossetto più chiaro, a volte utilizzo, o un colore o l'altro, a volte utilizzo il rossetto scuro, cioè questo, per contornare le labbra, ovviamente vado a temperare bene la punta, e quindi vado a fare il contorno labbra, e sfumo dall'esterno all'interno, e solo al centro, vado ad utilizzare questo rosa malva, con dei riflessi azzurrini, ed è un colore anche, che va a sbiancare parecchio i denti, per quanto riguarda i rossetti, invece ne ho quattro, la maggior parte belli cremosi, scorrevoli sulle labbra, e soprattutto hanno una buona tenuta, e non vanno né a seccare, né a screpolare le labbra, sono meravigliosi, anche qua ci sono di tante tonalità, e ne ho prese solo quattro, la mia preferita in assoluto, è la numero 02, che è un bellissimo nude, ecco qui, spero riusciate a vedere bene, un nude rosato, che io utilizzo per il giorno, per la sera, sia se faccio dei trucchi chiari sugli occhi, oppure scuri, è molto scorrevole, è bello cremoso, è quasi impalpabile, il colore si presenta così, molto 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 carino, questo ve lo straconsiglio, e già vi dico che una volta finito, lo voglio ricomprare, poi il numero 04, che invece è un fucsia bello intenso, ed è lui, ok, lui, poi il numero 11, che tra l'altro ho utilizzato, nel secondo make up, per le feste di Natale, ed è un bellissimo rosso, ma neanche troppo rosso, ed è questo qui, ecco qua, i colori si vedono molto bene, e poi questo color melanzana, molto molto scuro, molto bello, con dei riflessi azzurri, sul blu, tra l'altro va a sbiancare tantissimi denti, è quello che a me non piace, semplicemente perché non sono più abituata, ad utilizzare rossetti troppo scuri, sulle mie labbra, forse causa pandemia, soprattutto mascherina, e sinceramente non mi sento neanche più a mio agio, ed è il numero 05, ecco qua, si presenta così, questo tra l'altro è l'unico, che ha una consistenza abbastanza dura, non scorre molto bene sulle labbra, bisogna insistere, però ha il colore meraviglioso, ma ahimè, dove devo andare? è troppo troppo scuro, non sono più abituata, quello che ho su ora è Capricius di MAC, che tra l'altro è molto carino, ma questo qua è ancora più scuro, quindi, sinceramente, anche no, infine, ma non per importanza, vi faccio vedere le uniche due tinte labbra, che ho di Puro Bio, chiaramente ci sono di diversi colori, ho scelto questi, perché mi piacevano di più, li utilizzavo, e li utilizzo a maggior ragione, nell'ultimo periodo, perché mi piacciono tanto, non vanno a seccare più di tanto le labbra, hanno una buona coprenza, sono molto scorrevoli, molto pigmentati, l'unico difetto è, anzitutto, il pennellino, perché è fatto così, tipo palettina, quindi non è molto semplice da applicare, bisogna stare un po' attenti, e poi, la consistenza è troppo liquida, quindi, io quando prelevo il prodotto, vado a togliere l'eccesso, vi faccio vedere, così, e poi piano piano, vado ad applicare il tutto, e faccio una sola passata, sotto e sopra, non lo vado a riapplicare più volte, perché altrimenti faccio strato su strato, e ragazzi, anche no, viene uno schifo, sono a prova di mascherina, questi sono ottimi, il primo è il numero 01, che è un bellissimo nude, non è né troppo caldo, né troppo freddo, non è né troppo scuro, né troppo chiaro, molto 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 carino, e poi il numero 03, che invece è un bel malva, non troppo scuro, anche dei riflessi blu, e devo dire che mi piacciono, assolutamente consigliati, bene ragazzi, il video finisce qua, scusate come sempre per i tagli, gaff, eccetera, eccetera, ma soprattutto scusate per la voce, ma è un periodo in cui non sto bene, ho problemi alla gola, non sto qui a dire, perché per come, se no, dovrei fare una sorta, di bibbia gigiotopax, con tutti i problemi di salute, che ho, non mi sembra il caso, se avete provato, questi prodotti, fatemi sapere con dei commentini, se volete consigliarmi, qualche altra cosa, fatemi sapere giù, nei commentini, io non lo so, spero di esservi stata utile, forse sì, forse no, ma spero soprattutto, di avervi tenuto compagnia, io vi mando, un grande, beso, e ci vediamo presto, al prossimo video, ciao!